Omicidio a Portobudello, in territorio di Teulada. La vittima è Alessio Madè, di 51 anni. Lo chef di Teulada è diventato noto per aver partecipato nel 2018 al reality 4 ristoranti condotto da Alessandro Borghese. Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato da un familiare nel preso del suo ristorante attorno alle 9.30. Era riverso a terra, sembra essere stato colpito con un'arma da taglio. Scattato l'allarme sul logo del delitto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia che stanno passando al settaccio la scena del crimine e ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo. Madèddu alcune mesi fa era stato condannato a 6 anni e 8 mesi per duplice tentato omicidio per aver aggredito il 2 novembre 2020 con una ruspa a una pattuglia di militari. L'uomo era stato ristretto ai domiciliari.